Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo video delle pillole di Caruana con il nostro campione che gioca con il bianco contro il numero 1 al mondo, ebbene si Magnus Carlsen al torneo di Bilbao Master del 2012, sfida quindi ad altissimo livello, si inizia con Fabiano che con il bianco gioca E4, E6, D4, D5, quindi difesa francese, cavallo C3, alfere B4, variante Winawer. Le cose però non si mettono benissimo per Fabiano e si arriva in questa specie di finale con molti pedoni ancora sulla scacchiera, ma Carlsen ha un pedone di vantaggio e questo può spesso essere un fattore decisivo, tra l'altro c'è pure questa impedonatura che certo non aiuta il bianco, inoltre il re nero è molto attivo in questa posizione. Ok, a questo punto vengono ripetute un po' le mosse, si giunge in questa posizione dove il nero cambia i pedoni sulla casa B4, lascia in presa questo pedone, Caruana lo prende riportandosi in parità di materiale, però con la mossa successiva, alfere E4, chiaramente il nero toglie dai giochi la torre che non può rientrare in difesa diretta del re e ora il nero minaccia ad esempio di attaccare in molteplice modo il pedone in C2. Tra l'altro questo pedone non è neanche facilmente spingibile perché c'è comunque torre B2, il nero entra in un fortissimo attacco dove il re bianco è isolato in difesa. Quindi Caruana che fare? Potrebbe impedire la mossa principale del nero torre B2 giocando Re C1, ma questo non risolverebbe chiaramente il problema di attività dei propri pezzi. Quindi poi il nero può rientrare addirittura anche con il re in gioco abbastanza tranquillamente. Quindi cosa si inventa qui Caruana? Una mossa abbastanza interessante, vediamo se riuscite a indovinarla. Vedete pure in pausa il video, mossa molto coraggiosa da parte di Caruana. Ebbene qui ha giocato un sacrificio di qualità catturando l'alfiere con la torre. Ok, chiaramente il nero deve recuperare. A questo punto cosa ha ottenuto? Ha ottenuto che i due pedoni del nero non sono più affiancati, quindi molto più deboli in questa posizione. Il problema è che qui se il nero gioca precisamente può ancora riuscire a pareggiare. Però per prima cosa tocca al bianco che spinge il pedone in F5. Quindi l'idea è quella chiaramente di farsi largo con i propri pedoni passati per creare problemi al nero. I pedoni non sono affiancati, quindi difficilmente si possono sostenere. Però il nero ora deve decidere se rientrare in difesa oppure passare all'attacco. In questo caso Carlsen ha giocato re g2. Qual è l'idea di questa mossa? Probabilmente portare il re sulla colonna F per poi avanzare in qualche modo il pedone centrale. Il problema di questa manovra è che è un po' lenta. Difatti qui permette subito al re bianco di rientrare in gioco facilmente in una posizione centrale che riesce a controllare sia difensivamente i propri pedoni che anche eventuali ingressi di torre, ad esempio in seconda traversa per cercare di attaccare i propri pedoni. Probabilmente era meglio se il nero giocava subito torre b2 invece che il re g2. In questo modo dava subito dei problemi al re che non si poteva centralizzare lasciando questo pedone in presa. Difatti qui ad esempio vediamo alcune varianti. Se il re prova a attaccare torre pedone, segue 3. Ora la torre non può essere presa perché questo pedone promuove. Inoltre con questa spinta il nero ha chiuso queste due case al re bianco. Quindi con l'alfere fuori gioco è abbastanza difficile riuscire a bloccare questo pedone anche se il re prende la torre o il pedone promuove. In alternativa se il re bianco fa la stessa mossa di prima di centralizzazione ora il nero guadagna questo pedone molto importante e attiva subito la torre. In questo caso se viene spinto ad esempio il pedone il nero può giocare ad esempio il pedone in c3 per crearsi una casa e bloccare in tempo l'avanzata di questo pedone. In alternativa potrà porre il re in g2 di modo da trovarsi anche un'altra casa atta a bloccare l'altro pedone. In ogni caso poi avrà sempre la minaccia di poter spingere questo pedone a promozione e sarà difficilmente ostacolabile dal bianco. Comunque dopo re g2 il re bianco si centralizza e ora Caruana ha buone possibilità di successo perché anche se il nero ora gioca torre b2 però ha perso un tempo. Avrebbe potuto giocare subito senza centralizzare il re e difatti ora la cattura di questo pedone arriva un po' in ritardo. Ora se qui il bianco continuasse a spingere il pedone f sarebbe un errore perché darebbe una giustificazione alla mossa re g2 del nero. Difatti ora è nella disposizione questa casa per bloccare il pedone. Il pedone viene spinta ancora ma non fa in tempo a promuovere perché il nero lo ferma con la torre. Quindi cosa gioca Caruana? D5 perché ora il pedone pericoloso è il pedone D. Difatti anche se il nero cattura in C2 come effettivamente fa ora non ha a disposizione la casa D2 per fermare il pedone con la torre. Quindi Caruana spinge ancora e a questo punto anche questo scacco che permetterebbe alla torre forse di rientrare in tempo sul pedone non è sufficiente perché il re prende torre D3 e ora però può essere spinto l'altro pedone. A questo punto doppia minaccia. Non è facile da gestire per il nero. Se cattura il pedone D di fatti viene spinto in F7 e ora l'alfiere fa buona guardia perché controlla entrambe queste case e non permette alla torre nera di rientrare in gioco. Anche se viene dato questo scacco il re si sposta e la torre comunque non può andare a attaccare il pedone né porsi sulla casa che eviterebbe la promozione. Quindi in questo caso il bianco promuove e vince. Ok ecco perché Carlsen ha giocato C3 cercando contro gioco. A questo punto è già abbastanza ovvio che il nero dovrà sacrificare la torre sul pedone appena promosso ed è quello che succede ma almeno con l'ultima mossa di pedone questo pedone è più vicino a promozione quindi più pericoloso. Ancora il nero non è completamente spacciato e il bianco deve stare molto attento. A cominciare da questa mossa che gioca Carlsen. H4 l'idea di spingere ancora e crearsi un pedone possibile da fermare per la promozione. Qui chiaramente Caruana prende il pedone però attenzione perché se l'avesse fatto con l'alfiere sarebbe stato un problema perché quest'alfiere ora è fuori dai giochi e ne lo può riuscire a promuovere i pedoni centrali. Infatti dopo C2 minaccia promozione quindi il re deve fermare questa minaccia e ora c'è E3 scacco. E cosa succede? Il pedone non può essere preso altrimenti il nero promuove quindi miglior cosa catturare il pedone però dopo E2 questo pedone non si ferma più perché subirà l'aiuto del proprio re. Infatti anche se il re si avvicina poi il re nero va in F1 e promuove perché proprio l'alfiere campo scuro del bianco non può entrare in difesa. Quindi giustamente Caruana cattura questo pedone appena spinto con il pedone G anche se questo crea un terzo pedone passato per il nero non sarà un problema come vedremo. Ok Caruana gioca la spinta in G3 evidentemente può anche sperare di promuovere questo pedone togliendo il re di mezzo e spingendo in qualche modo però anche Caruana spinge e ora chiaramente ha due passi dalla promozione quindi il nero deve fare qualcosa. Prova nuovamente a giocare C2 Caruana come le antiprecedenti veramente minaccia di promuovere unico modo per fermare la promozione giocare re di 2. Se viceversa avesse tentato di promuovere comunque il pedone G con re ad esempio H1 sarebbe stato interessante perché c'è prima cosa alfiere B6 che va a coprire la casa di promozione del pedone. Difatti anche se questo viene spinto il bianco basta che sposti il re e copre con l'alfiere la casa di promozione. E qui che fare? Se il pedone viene promosso veramente l'alfiere bianco ci si può sacrificare e poi il bianco promuove questo pedone senza problemi. Quindi unica speranza del nero spingere in C2 però re di 2 blocca la promozione e ora non c'è più la spinta in E3 per distrarre il re nero o eventualmente minacciare la promozione perché comunque è l'alfiere che copre questa casa e catturando il pedone continua a mantenere la difesa su la casa G1. Ok quindi giustamente Carlsen qui gioca C2 tentando il tutto per tutto la promozione viene bloccata e ora spinta in E3. Nuovamente questo pedone non può essere preso però ora il bianco cattura il pedone C e che succede? A questo punto spinta in E2 minaccia di promozione però l'alfiere fa in tempo a bloccarla. A questo punto Carlsen ha abbandonato. Difatti anche se tentasse di promuovere il pedone G il bianco promuoverebbe con una mossa di anticipo e qui c'è donna F3 che non lascia tante opzioni al nero. Difatti se frappone la donna va bene il cambio di donna e poi questo pedone promuove. Mentre quello del nero viene fermato anche semplicemente dall'alfiere. Alternativamente cosa? Se re H2 c'è lo scacco d'alfiere e al nero non rimane altro che sacrificare la donna e poi prendere matto in due. Se il re prende il pedone che è probabilmente l'ipotesi migliore però c'è sempre questo scacco d'alfiere e incredibilmente il re nero non ha case deve sacrificare la donna dopodiché chiaramente la partita è facilmente vinta. Ok quindi grande prova di finale. Un finale coraggioso che ha pagato stavolta l'iniziativa di Caruana. Bene quindi spero abbiate imparato qualcosa. Ci vediamo al prossimo video. A presto. Ciao ciao.